eccoci qua caro preziosi siamo alla giunta dei conti conti molto duri e severi tu hai fatto del mare a mio figlio ea me guarda come traballa la telecamera traballa tutto viene giù tutto adesso devi pagare la grana te e le assicurazioni generali mi dovete risarcire se no è finita non ci esci dall'italia lo dico a trump e a putin fammi arrestare ora fammi fare stare così andiamo in tribunale di racconto tutto quello che so è che hai fatto retrocedere il geno in serie c ecco la valigetta perché io ho parlato ho detto tutto al papa è sommato diamela a dire qua ecco la valigetta